Stare al passo con le novità che la scienza può offrire e garantire a quanti vi si rivolgono per superare i propri problemi di salute un servizio sempre più completo ed efficiente. Seguendo questa linea che da sempre caratterizza le sue attività, l'Istituto a New Delta di Pizzo amplia la sua offerta sanitaria avviando un nuovo presidio sanitario con l'apertura di un centro di osteopatia. L'osteopatia è una medicina manuale sempre più diffusa e ricercata in Italia. Parte da una minuziosa valutazione per poi curare il paziente effettuando manovre e manipolazioni quasi sempre dolci. Inserita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le medicine complementari, L'osteopatia è particolarmente indicata per la cura delle patologie dell'apparato muscolo elettrico, in particolare quelle che riguardano la colonna vertebrale, ed è indicata anche per le affezioni dolorose correlate agli organi viscerali e per le problematiche occlusali della bocca che possono causare disturbi posturali. Quale terapia alternativa? L'osteopatia è un sistema affermato e riconosciuto di prevenzione sanitaria che si basa sul contatto manuale per la diagnosi e per il trattamento. Tra le tante offerte che il Newtonelta propone, ora vi è questo aspetto dedicato all'osteopatia? Sì, l'osteopatia è una disciplina che ha un grande futuro, per cui noi da tempo ci occupiamo di riabilitazione, di trattamento fisioterapico in generale, poter offrire anche delle prestazioni di osteopatia è una cosa importante. Abbiamo ottenuto la collaborazione di uno dei più grossi osteopati del territorio, che è il dottore Larai, il quale, a secondo i nostri pazienti, lui verrà ad assirci e ad attuare delle terapie osteopatiche. Quindi con questo noi completiamo quella che è la rosa delle prestazioni che noi attuiamo nell'ambito fisioterapico riabilitativo, nel trattamento di diverse patologie, in particolare quelle della colonna vertebrale. A tal proposito noi iniziamo ora un corso proprio sulla colonna vertebrale per circa 50 corsisti, del tutto gratuito e con 11 crediti formativi, diviso in due parti. Il primo sarà giorno 18, che è un sabato mattina, e il secondo il 2 dicembre, che è sempre un sabato mattina. Quali saranno le attività che si svolgeranno? Le attività che si svolgeranno saranno sicuramente trattamenti osteopatici, che in cosa consistono? In tutto un insieme di metodiche, di manovre effettuate dall'osteopata per andare a normalizzare le disfunzioni somatiche di tipo muscolo scheletrico, cranio sacrale, viscerale, fasciale. Perché ecco è proprio questo che fa l'osteopatia. L'osteopatia non cura una patologia. L'osteopatia normalizza un sistema partendo dal presupposto che il corpo umano è un'unità funzionale dinamica, vivente. In quanto tale, le parti sono strettamente correlati fra loro e questo sistema possiede dei meccanismi di autoguarigione e autoregolazione propri. Nel momento in cui, a causa di eventuali fattori ambientali, questa adattabilità viene alterata, si vanno ad oltrepassare le capacità limite del corpo umano, da ciò potrebbe derivare una disfunzione. Ed è questo che ricerca l'osteopata. La disfunzione somatica, intesa come una funzione alterata o compromessa a carico del sistema somatico, ovvero a carico del corpo. Riguardo all'osteopatia ci sarebbe tanto da dire. I campi di applicazione sono veramente vasti, anche perché col passare degli anni l'osteopatia, come molte altre professioni, è andata incontro ad un processo di settorializzazione, di specializzazione. Dunque esistono numerosi osteopati che sono specializzati in determinati sottocampi dell'osteopatia piuttosto che in altri. Per quanto riguarda la mia personale esperienza formativa di tipo osteopatico, maturata nel corso di otto anni in qualità di studente, tre anni in qualità di assistente ai docenti, posso riferire che ho avuto il privilegio e forse anche un po' la fortuna di incontrare numerosi maestri di vita. E ognuno di questi mi ha aiutato a scorgere, ad individuare una verità diversa dell'osteopatia. Chi si deve rivolgere e perché all'osteopata? Dall'osteopata ci si rivolge per qualunque tipo di problema. Come ho detto, il campo di applicazione è vastissimo. Può riguardare pazienti pediatrici, giovani adulti, medi adulti, pazienti geriatrici. Può essere molto utile nel trattamento di patologie, di disfunzioni, pardon, ho detto prima disfunzioni, a carico del sistema dell'apparato locomotore, soprattutto a livello della colonna. Può essere indicata in caso di disturbi addominali, dolori, problematiche inerenti a stomaco, fegato, intestini, disturbi del pavimento pelvico, anche disturbi respiratori attraverso la mobilizzazione e la manipolazione dei diaframmi corporei. Per cui, come diceva Andrew Taylor Steele, il padre fondatore dell'osteopatia, l'unico limite dell'osteopatia è l'osteopata. Quando è opportuno rivolgersi all'osteopata? Ci si può rivolgere all'osteopata in qualunque momento della vita, in qualunque età della vita. Come ho detto, l'osteopata normalizza un sistema, non cura una patologia. Dunque sarebbe innanzitutto opportuno che il paziente si rivolga allo specialista o quantomeno al medico di base, affinché possa essere fatta una diagnosi. E nel caso in cui lo specialista o il medico di riferimento stabiliscono che non si è di fronte a condizioni patologiche, allora in quel caso può intervenire l'osteopata attraverso il trattamento manipolativo osteopatico.